Confartigianato Udine e Confartigianato Trieste mettono insieme le forze per i servizi alle imprese confluendo sotto lo stesso cappello societario di Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia presentato oggi a Udine. Formalmente costituita la SRL andrà a regime dal punto di vista operativo da gennaio 2019 ma i primi passi sono già stati compiuti a partire dall'elezione del nuovo board composto da 12 amministratori equamente divisi tra Udine e Trieste che ha eletto il leader friulano Graziano Tilatti alla presidenza affidando al numero uno dell'associazione giuliana Dario Bruni il ruolo di vice. Alla direzione sono stati chiamati Sandro Caporale ed Enrico Eva a garanzia del periodo di transizione stimato in circa un anno. Saranno affiancati da Maurizio Pastorello come vice direttore. Il passo di quelli importanti avvia infatti il percorso di regionalizzazione della società di servizi in un'ottica di efficientamento per avere una struttura ancora più capillare al passo con i nuovi adempimenti che burocrazia e digitalizzazione richiedono. Grazie alla riorganizzazione interna sarà possibile far evolvere anche il personale da destinare ai servizi innovativi. La società conterà complessivamente su circa 200 dipendenti e produrrà un volume d'affari di oltre 11 milioni di euro frutto dei servizi erogati a favore delle 4.000 imprese già in portafoglio. A un momento assolutamente storico sia per Trieste che per Udine dalla competizione calcistica passiamo ai fatti con le imprese e rispondiamo a quattro giorni delle elezioni con una fusione dei due territori che mai si avrebbe pensato di fondare assieme. Si è avuto insieme due strutture potenzialmente molto forti. Io fornisco dei numeri, 4.000 imprese in portafoglio, 11 milioni di euro di ricavi e oltre 200 dipendenti. Ritengo che saremo la più grande società di servizi per le imprese della regione Friuli-Venezia-Giulia. Ora ci sarà questo momento di assestamento con direzione diciamo così in coppia, poi sarà lei il futuro direttore generale di confrattigianato per Trieste e per Udine. Sì, questo è ancora più orgoglio per me, ritengo anche per Trieste e per i triestini, insomma è un po' anomalo con Triestino, si è chiamato a dirigere anche l'unità udinese e questo ha deciso i due consigli di amministrazione di Trieste e Udine. Questo riempie di orgoglio Trieste, ritengo gli artigiani di Trieste e per me è una sfida importante, però insomma ci metto la faccia quindi ci tengo a fare bella figura.